Nella 97esima ricorrenza della conclusione della Prima Guerra Mondiale e del compimento dell'Unità Nazionale, la città di Pordenone ha commemorato i caduti di tutte le guerre e coloro che hanno concorso al processo unitario del Paese. Questa mattina, presso il cimitero urbano, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei caduti alla Patria. Alla presenza delle massime autorità civili e militari, dopo la celebrazione religiosa svoltasi alla chiesa di San Francesco di Via Cappuccini, il corteo dei presenti si è recato al cimitero cittadino per la deposizione della corona d'alloro. Nelle parole dell'assessore comunale Bruno Zille, il significato della cerimonia. Oggi ricordiamo i caduti di tutte le guerre. L'amministrazione, come ogni anno, ovviamente riconosce e porta l'alloro a questi che si sono spesi la vita per la nostra comunità. Questa è una speranza importante perché ricordiamo il concetto della democrazia, della libertà e della pace per la nostra comunità.